Ciao! Anche oggi sono raccomando nella videocamera, che amoletti ma che sta succedendo in queste settimane? Siamo tornati con un nuovo video, siete contenti? Comunque oggi volevo farvi vedere la mia collezione di LOL Surprise Iniziamo dalle commenti pop PS mi scuso, mi scuso, mi scuso, vabbè Mi scuso per questa voce, ma sono un po' raffreddata E se vedete loro che hanno un pochino la voce perché oggi c'è un'epidemia veramente Iniziamo dalla prima, ma proprio la prima, la prima, la prima dell'assoluto delle mie LOL E la prima delle mie convetti pop Che è... Trixie! Ciao a tutti lolini loline Io sono amica di tutti qui e sono la cugnetta di Spike che vedrete da poco Sì, oramai Trixie Sì, sì E ora tocca a Cleo Ciao a tutti lolini loline Io sono stata la seconda lol di Franci E sono la... sono la sorellona di Cleopatrina e di Bossina E sono la professoressa di storia In questa città, insomma, volevo diventare la professoressa Perché io sono un passo avanti con la storia Nelle altre materie non mi interessa niente Ciao! Poi la protagonista del nostro canale che è... Dusk! Ciao a tutti loline loline Wow, cominciate belli oggi Come state? Spero tutto bene Sì, sono stata la terza E quando pare sono la più importante perché io prima a Franci non piacevo E poi mi ha cominciato ad amare come se fossi un'amica per lei E quindi ora abbiamo questa sintonia speciale Siamo migliore amiche, tipo Sì, siamo tipo migliore amiche Ora potreste andare, Dusk Ah, io sono la nipote di Tiana Nipote... cioè, lei è mia zia E poi sono la cuginetta di Flower E quasi o cuginetta o sorellora di Mary Perché lei a volte mi chiama sorellora A volte mi chiama Dusk, normale, buono, non lo so Perché chiamo anche Flower sorellora Sì, sì Puoi andare Salve a tutti, a meno mi avete ancora visto Però, vabbè, coprirò delle storie estive Tra qualche mese Tra qualche mese, tra qualche mese In realtà poi non sarà un anno Sì, vabbè Comunque ero la migliore amica di Dusk Però non andavamo più d'accordo Quindi non siamo più amiche Siamo solo conoscenti ora E lei non mi so portare nemmeno da venire in fotografia Ti odio proprio Sì, lo so E comunque Sono la cuginetta di Trixie La prima nonna che avete visto entrare Ora vado Torno all'aeroporto Vado No, di là, di là No, io voglio andare di qua Ah, vabbè E poi chi c'era? Ci sono io Showbaby Ciao Ciao a tutti Questo video è stato registrato prima della mia partenza Sì, sì Io sono la fidanzata di Ney Lilline Ci siamo noi Ciao Ciao Io sono la sorellina di Splashus Mi chiamo Splashusina e sono la cuginetta sua e la cuginetta di Treasure Io sono Tregiorina e sono la sorellina di Treasure Cuginetta di Splashusina e cuginetta di Splashus Ora però noi dobbiamo andare Splashus 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 E quindi ci vediamo tra poco Ciao Volevo fare un'entrata bella comunque A tra poco Oh